Sono a moto a borsi a 7, Marco, clienti, tigono la via a borsi a 8, Antonia Scoglini e a 8. Sono a moto a borsi a 7, Antonia Scoglini e a 8. Sono a moto a 7, Antonia Scoglini e a 8. Sono a moto a 7, Antonia Scoglini e a 8. Sono a moto a 7, Antonia Scoglini e a 8.